Sostanzialmente noi riteniamo, in base anche alle audizioni che sono state fatte dalla Commissione Politica Sociale, con sindacati, con le organizzazioni sociali del terzo settore, con i rappresentanti dei dipendenti e con i rappresentanti degli utenti, noi riteniamo che sia ora di mettere mano alla situazione della SSB, superando un'eccessiva burocratizzazione e coinvolgendo le forze sociali, i protagonisti dei servizi sociali, nella gestione dell'azienda. Quindi niente spezzatini, niente situazioni di commissariamento da parte della politica, ma un protagonismo della società civile. La seconda cosa è di affrontare la questione del finanziamento dei servizi sociali, che sono a rischio, per colpa di alcune scelte politiche della provincia, ma soprattutto perché non si vuole affrontare quello che è il vero disagio sociale che esiste in provincia di Bolzano e che è concentrato nelle aree urbane, segnatamente in quella del capoluogo.